È il quinto giorno consecutivo di protesta nella foresta di Grunheide, alle porte di Berlino. Dalla serata di mercoledì scorso, decine di attivisti hanno occupato una parte dell'area boschiva per protestare contro il piano di espansione dello stabilimento Tesla, che prevede l'abbattimento di più di 100 ettari. I manifestanti hanno anche costruito una dozzina di casse sugli alberi a diversi metri dal suolo per proteggere l'area. La polizia ha stabilito che la protesta potrà continuare fino al 15 marzo, ma si sta preparando anche a una mobilitazione di maggiore durata.